Benvenuti di nuovo a London One Radio, qua nel nostro Voyager, nello studio 59 di Toteman Hell. Continuiamo a fare approfondimenti su questo mondo molto particolare della blockchain e criptovaluta e lo facciamo oggi con Marco Camisani Calzolari, volto noto televisivo da striscia, imprenditore, iscrittore, docente nelle più importanti università sia in Italia che in Gran Bretagna, consulente aziendale, molto, molto informato sull'aspetto internet di tutto quel mondo particolare dove stanno crescendo queste, io direi, criptovalute, ma io direi anche criptonite Marco, a me fa molto paura. Cosa ne pensiamo allora? Ciao Marco innanzitutto. Ciao ciao, mi veniva la voglia di salutarti da un po' di radio, tipo, ciao ragazzi eccoci qua, sono Marco Camisani Calzolari da Londra. Eh ma si può fare, si può fare, eh io, no ma io... Dai anni 80 sai, adesso il prossimo disco, anzi il prossimo sito web. Che bello. Allora, torniamo a serie, che poi siamo sempre serie, almeno io, a volte no, quando si scherza, si ride super bene, non è che uno non è serio, l'importante è cosa dice, non come lo dice. È vero, è vero. Tu infatti, ho visto dai tuoi social, seguitissimi tra l'altro, che hai detto una cosa, beh internet non è un mondo così inventato, un mondo reale, cioè un mondo serio, cioè sono cose serie quelle di cui si sta parlando. Ed è, sono talmente seri, però la gente ancora, cioè non ha questa percezione di questa serietà. Perché secondo te? No, beh dai, un po' ce l'ha perché adesso cosa sta succedendo? Proprio a proposito del tema di cui vogliamo parlare oggi, questo, insomma dire, ha un suo perché, perché ovviamente circola voce che prima con le start-up, adesso con l'ecrito e poi con altre cose collegate all'ecrito, si fanno i soldi. E allora dove ci sono i soldi? Arrivano tutti di colpo improvvisamente. Io mi ricordo in passato avevo amici, ma più analogici di così, va bene, li avevo tutti analogici originariamente, perché è il dato che la gente diceva, ma cos'è sta cosa? Internet? Eh, uff! No, quindi, per cui, no, ma proprio analogici proprio che ridevano, però mi ricordo che appena si trattava di risparmiare i soldi perché craccavano la Nintendo DS con la schedina, improvvisamente sapevano andare nei siti, scaricare dai torrent la schedina, la mettevano, ma come? Ma non eravate analogici? Eh, certo. E quindi adesso è uguale, no? È uguale. Tutti esperti di questa roba qua perché si fanno i soldi, capito? E purtroppo i soldi alla fine li fanno in pochi. Infatti in questo mondo c'è gente che ci guadagna, ma c'è gente anche che ci perde. Sì, ma allora, in molti casi è un casino, e non lo dico io, non si offenda chi gioca, chi investe nelle cripto, perché è pieno di ricerche che trattano questo tema, cioè che comunque la velocità d'accesso, la quantità enorme di macchinette, vedi appunto diversi tipi di cripto, che hanno, che cambiano valore velocemente, di cui non si sa nemmeno il perché cambiano valore velocemente, assomiglia a un grande casino. E questo avviene, soprattutto sto escludendo solo Bitcoin, per capirci. Ok. Ma parlo di tutto il resto, escludo Bitcoin per vari motivi, poi ne parliamo. Certo. Ma tutto il resto è così, nella maggior parte dei casi è così, e quindi per molti è un grande casino e attrae ludopatici. Peraltro non essendo regolamentato è un grande guaio, perché è pieno di minorenni. E cosa aspettano, Marco, a regolamentare questo mondo? Che potrebbe, cioè sicuramente va verso il futuro, cioè questo sarà il futuro dell'economia, ma non lo so. Il motivo per cui non lo regolamentano, te lo spiego a seguito di quest'altro punto, che è che circola un mucchio di denaro sporco, ma a quantità vergognose. Cioè diciamo che la maggior parte del settore è composto da denaro sporco worldwide, perché uno spesso pensa sempre di guardarsi intorno, si guarda fuori dalla finestra, nel proprio paese, nella propria città, nel proprio stato, ma non è così. Cioè una volta per scambiare denaro sporco che proveniva da truffe, da droga, da una parte all'altra del mondo, non è mica facile, perché bisognava, non potevi passare dalle banche. Quindi era un guaio. Adesso è diventato facilissimo, cioè dal Nicaragua alla Colombia alla Russia, basta un clic, pum, e i soldi si spostano. E poi dall'altra parte succedono altre cose, danno benestare a qualcosa, mafie varie, ma sto parlando sempre delle dimensioni del mondo. Cioè otto miliardi di persone, che è diverso da qua dietro. E quindi ci sono veramente tanti soldi in ballo, tanti, tanti, tanti. In questo momento c'è una sorta di piramide, dove c'è questa punta con i grandi trafficanti, che gestiscono grandissime quantità di denaro, e sotto ci sono i grandi truffatori, e poi ci sono i piccoli truffatori, e in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, ci sono i truffatori, i poracci, che sono quelli che poi, peraltro, se gli parli male di queste cose, sono quelli che si incazzano. Perché? Perché? Perché una buona parte, poveri, ci crede, perché è in un momento di difficoltà del mondo, non solo dell'Italia. Quella è una delle poche cose legate al digitale che possono fare, facendo due click, comprano, vendono, eccetera, sperano di diventare ricchi, perché c'è chi glielo dice, e dall'altra parte, purtroppo, ci sono anche i ludopatici, e quindi là sotto, tutti questi guido sono quelli fregati. Fregati non vuol dire che dai soldi e non li vedi più, vuol dire che dai soldi raddoppiano, dai soldi raddoppiano, wow, ne mette ancora di più, dai soldi, spari. Eh certo, è certo, un gioco antico, però, mi sembra di capire. Perché qualcuno in mezzo, eh sì, perché quelli che stanno ancora non gliel'hanno portati via, non ancora corrato tutto, tutti dicono, ma che cosa dici, io sto guadagnando. Senti, Marco, ma tutto questo sistema, che poi andremo a vedere un po' più nel dettaglio, ma era necessario fare, secondo te, come tempistiche storiche? Cioè, era giusto entrare proprio Bitcoin, tutta questa roba virtuale, il wallet, ne abbiamo già parlato, questo, appunto, portafoglio virtuale, dove si vanno a inserire le criptovalute per poi comprare le NFT, che poi parleremo. Ecco, ma tutto questo era necessario? Cioè, secondo te, è una trasformazione giusta questa, per i tempi che corriamo? Allora, ti rispondo a due domande. Prima, la coda di quella prima, perdonami, ma ce l'avevo... Sì, sì, giusto, giusto, vai, vai. Aspetta che, giustamente, è rimasta, vabbè. E quindi, praticamente, la grande quantità di soldi che circola è veramente di miliardi, cioè, stiamo parlando di gente singola, singola, che ha miliardi, cioè, proprio miliardi, billions, tant'è che le truffe adesso che incominciano a circolare sono anche di billions, cioè di miliardi. Che cosa vuoi che sia fare lobby nel mondo politico con tutti quei soldi? Cioè, si stanno comprando advertising ovunque, pubblicità su tutti i media, cioè, i soldi che circolano lì sono oltre. Certo. Oltre l'immaginabile. Comprerebbero veramente chiunque. Quindi è anche facile, come dire, rallentare certi percorsi. Questo è un motivo. Il secondo motivo per cui la politica fa fatica è per lentezza, per ignoranza, perché è un mondo che va più veloce di loro. Bene, seconda domanda. Era necessario? Allora, tutta l'innovazione è necessaria. Le invenzioni non possono essere disinventate. Questo, a prescindere dal fatto che siano buone o cattive. La bomba atomica non si può disinventare, purtroppo, se no la disinventeremo tutti. E quindi, cosa accade? Che sicuramente dietro ci sono delle tecnologie buone, perché possono essere usate per certe cose. E' pieno di tecnologie buone che sono usate correttamente per certe cose, perché non c'è intorno una bolla, ok? E quindi, chiaramente, non ne approfittano, oppure non è uno straordinario mezzo. Non so, l'intelligenza artificiale in sé non è uno straordinario mezzo per trasferire denaro sporco dalla parte dell'altra del mondo, per ora. E quindi non interessa. E invece, per cui la blockchain è straordinaria per ora. Nel senso che dovremmo poi capire che cosa succederà in futuro, anche dal punto di vista tecnico, e di quanto con i computer quantistici potrà essere bucabile. Per ora non lo è. E perché sennò parlerebbe tutto, evidentemente. Però diciamo che per ora diamo per scontato che non lo sia. È un'ottima tecnologia che permette di avere, appunto, l'aspetto di un database, per chi sa cosa è un database, altrimenti lasciate proprio poi vedere il tema. Ho voluto dire prima che cosa è un database. No, lo dico perché a volte c'è chi si lancia verso l'universo della comprensione mancando. Non so, magari le basi. E dopo si incarta, no? Perché vede solo i soldi, soldi, tu sei indietro. Eh, no, no, è vero. Allora, è ottimo per certi scopi, ma non per altri. Cioè, esempio, la palestra, no? Fanno tutti l'esempio della palestra, è straordinario. Ma se io sono una palestra, ma perché devo mettere gli iscritti nella blockchain e gli NFT? Cioè, io voglio sapere chi è membro mio. No, tu. Cioè, ma poi se sale il valore della palestra che fanno investimenti... Sì, è un po' una cosa veramente assurda. Il valore del popolamento crescerà. Eh sì, se cresce perché ho fatto investimenti, i soldi voglio io, non che tu te li guadagni. Cioè, sono proprio fuori dal mondo di percezione. Non hanno proprio la percezione di cosa stanno dicendo. Ma perché? Perché molti sono veramente così. E poi c'è una terza categoria. Sì. I furbacchioni venditori. Cioè, quelli che approfittano di questo momento per vendere questa roba. Ma che dici, ma io come le riconosco? È facile. Vi vogliono vendere qualcosa. Cioè, è di una facilità estrema. Cioè, il professore dell'università che ti parla di questi temi non ti vuole vendere niente. Al massimo, al massimo ti vende una consulenza. Cioè, ma proprio al massimo. Ma nemmeno a una persona. Lo fa a un'azienda. Quindi, già il fatto che uno ti voglia vendere le sue pirlate già ti deve far pensare. Soprattutto se magari è gente che ed è pieno di questi motivatori che prima vendevano i corsi, prima vendevano le motivazioni. Ora si sono trasformati. Ora si sono trasformati e vendono gli NFT. Cioè, proprio la sequenza è sempre quella. È gente che acchiappa i soldi. Cioè, e se ne prendono tanti. Perché, purtroppo, in questo momento, con questa scusa dell'NFT, il futuro, il metaverso, fanno un mischione di cui nessuno ha capito. Sì, sì. Non è che nessuno. Noi esperti, noi... Vui sì, gli altri no, certo. Gli altri no. E quindi dicono, dammi, dammi, cos'è? Dammi a 200 euro. E c'è gente che si recupera a 400 mila euro. 500 mila euro con questi poveri fregati che gli hanno comprato l'immaginetta. Che non sanno mai cosa hanno comprato, perché l'immaginetta la possono pure cambiare, perché non conoscono la tecnologia. State attenti. Questo è il messaggio che vogliamo dare ai nostri radioascoltatori. State attenti. perché Marco Capisani-Canzolari lo conoscete attraverso anche la TV, i suoi social. Cioè, lui vi mette sempre allerta, le persone seguite, perché questo, cioè, Marco, sono anni che lavorerà in questo settore. 30 anni, docente, e quindi, come dici, quindi, attenzione... Poi non ho detto che io abbia ragione. Però, insomma... Come dire, nel mondo delle, non so, prendiamo una materia a me lontana, l'ingegneria civile, che non so, perché devo stare sui ponti, ok? Non è che l'ingegnere civile o il ricercatore universitario di materiali e tensioni non si confronta. Certo che si confronta, ma si confronta con i suoi pari, peer-to-peer, cioè, si confronta con gente che quando dice ma te riattenzione, ma te sa di cosa sta parlando? Sa di cosa parlando, è crollato il ponte di Genova, non siete capaci di fare niente. Magari. Cioè, ci vuole qualcuno ai pari. Quindi, ci si confronta. Quindi, questo significa che tu che mi stavi tessendo le lodi, grazie, ma in realtà io non è che abbia le ragioni assolute. Però, non è che mi posso confrontare con gente che fino a tre giorni fa non sapeva niente. e oggi è diventato entusiasta perché io sono contro l'innovazione. Viva l'innovazione, ma mettiamola nel posto giusto, sennò ve la mettono nel posto quello sbagliato o quello sbagliato. Ma io ho capito una cosa in tutto questo, che bisogna però anche studiare. Cioè, non è che qua, quando uno si avvicina a queste cose, anche da solo, da autodidatto, se no, anche leggendo dei libri, facendo dei corsi masseri, cioè, bisogna studiare. Ma lo dicono loro studiare. Sono loro stessi, quelli che non sanno nulla, che ti dicono, studia! Non so se l'hai visto il mio video. Sì, sì, studia! Studia! Ignorante! E quindi ti mandano a studiare, però, sul video di un altro che dice, beh, lì, comprate gli NFT, e quello lì è dove devi andare a studiare. Cioè, ma porca miseria! Cioè, voglio dire... No, bisogna stare veramente molto, molto, molto attenti. A studiare dove? Andate nei MOOC, cercate mooc.org, ci sono MOOC di tutti i tipi, delle università di tutto il mondo, università, quindi accademie, dove entrano corsi anche per tutti, non è che ti riscrivi al corso di laurea, e ti vai a studiare. Certo che è più noioso andarsi a leggere il protocollo, come funziona dietro lo standard di Ethereum o di RFC o di che ne so io, per capire dietro cosa c'è, ma è ovvio, però è quello, non è che poi fa star su un ponte, con il Lego. E tu devi ascoltare il pirlone che te lo racconta dicendoti che ti compri la Lamborghini. Però non gli fai niente. Senti, ma gli NFT, questo che ormai, come dici te, vanno ormai di moda, se tu dovessi raccontarli a un bambino, come li racconteresti gli NFT? Che cosa sono? Non è facile. Comunque, prima bisogna raccontare la blockchain. Ok, raccontiamo prima cos'è la blockchain. I ganci che tengono su le parche dei pirloni. se ne manca tutto il resto. Però diciamo che la blockchain è questo database distribuito. Se non si sa cosa è un database, allora studiate. Studiate! Studiate! Studiate, ignorante! E praticamente bisogna... Non tormentò niente. No, è vero. E bisogna studiate. E bisogna praticamente... Quindi è un database distribuito che spesso ha la possibilità di essere utilizzato senza che ci sia dietro un proprietario, ma non è detto, perché non è che... Anche lì è un'altra cosa che manca. Dici blockchain, è blockchain distribuita, non è di nessuno. No, non è vero. Cioè, può anche essere così, ma non è detto. Molti, in realtà, ne sono proprietari di quelle blockchain dove alcuni investono, fanno perché la blockchain è distribuita, è sicura, ma magari è di proprietà di uno che gestisce tutto sui propri server. cioè, è lui quello che ha la chiave in mano. Quindi anche qui bisogna capire. È per quello che poi li fregano. Quindi sono dei mattoncini, immaginiamo tanti Lego uno dietro l'altro agganciati, oppure una catena con delle maglie. Io sono proprietario, dentro ci sono scritte delle informazioni, di quel gancettino lì è mio. Oh, quel gancettino lì entro ed è mio. E ci sono delle specifiche, ogni gancettino, c'è un gancettino di un tipo, un gancettino di un altro, alcuni puoi cambiare proprietario, altri no, altri puoi cambiare le informazioni, altri no. Cioè, non cambiare le informazioni, aggiungere delle informazioni, altri no, eccetera, eccetera. Insomma, queste maglie della catena sono, per semplificare, gli NFT, ok? In realtà sono token, ma diciamo che, visto che la domanda è gli NFT, infatti sono non fungibili. Un fungibili token. Vuol dire che quello lì è solo quello lì, non è che c'è un altro, è solo quello, non è che invece quando io ho un euro lo posso scambiare con un altro. Perfetto. Ora cosa succede? Che quel cosino lì, quando si dice NFT, non si intende in realtà nel 99.9% dei casi quello che ho appena detto, ma si intendono le immaginettine con i disegnini delle scimmiette. Come mai? Perché uno degli scopi, ma uno degli scopi è quello di, in un certo, con uno standard specifico che è l'RC721, che ha dentro anche, oltre a delle informazioni, un link ad un'immagine esterno o ad un contenuto multimediale, potrebbe essere anche un video esterno, ok? E quindi un link, sai, HTTP, papà, oppure può essere di altro tipo, IPFS, quello che è. E quindi uno pensa di comprare l'unicità di quella roba lì e quindi dice, ah, adesso c'è tutto un mercato di unicità delle scimmiettine, che però si alimenta da solo, perché ci sono delle questioni tecniche. Primo, ti compri il token, c'è l'anello della catena, triste, grigio, brutto, che nessuno si comprerebbe, ma pensano di comprare la roba esterna. In realtà, la roba esterna, nella maggior parte dei casi, la JPEG può essere sostituita. Se tu vai nel tuo sito London War Radio, ci sarà sicuramente un'immagine del logo che si chiamerà London War Radio JPEG. Sì, assolutamente, caricato come JPEG. Perché, e io, quando entro nel sito, c'è un link che fa vedere quella JPEG. Se tu nel tuo server vai, prendi la foto di una cacchina e la sostituisci con lo stesso nome, quando io entro nel sito al posto del logo vedo una cacchina. Certo, è certo. Lo sappiamo, Questo funziona così il web. Sì. Ok, è lì uguale. Io compro un NFT con la foto della scimmiettina bella, dopo tre settimane non c'è più la scimmiettina bella, c'è la cacchina. Ok. Questa è la prima questione tecnica che rende, ad oggi, più che insicuri, perché non è insicuri, cioè lo storytelling intorno agli NFT è sbagliato perché in realtà quello che ti compri è quello. Secondo problema, mondo delle scimmiette alimentato e gonfiato a dismisura, cioè la maggior parte dei soldi che circolano lì non sono reali. Perché? Perché succede questo? Gente che vuol far vedere che vende un mucchio di scimmiette se le compra da solo. Eh, ma ti becco che le compri da solo? No, perché i portafogli sono anonimi, quindi io non so da dove hanno i soldi, in realtà sono sempre i miei che circolano e continuo a comprarmi le scimmiette da solo perché mi da 10 euro, io con 10 euro compro un'altra scimmietta, faccio circolare e di nuovo ritornano indietro. Perché è facilissimo oggi con gli Scramble cambiare il portafoglio e continuare a comprarti le tue. Per cui io posso dimostrare al mondo che ho venduto 10.000 scimmiette quando in realtà non le ho vendute. Secondo, è facile far vedere, siccome la gente le compra perché ha la percezione che diventa ricco o comunque che ci guadagna dei soldi perché a volte sono ragazzi poi puntano non a quelli che ci mettono 100.000 euro, puntano a quelli che ce ne mettono 100, 200, fateci caso, non vendono, cioè, perché vanno a ragazzini, perché vanno a pensare i soldi dai ragazzini, quindi sono anche dei disgraziati, capito, che almeno li rubino agli adulti. Invece no, ai ragazzini, quindi cosa accade? Le mettono quella da 100 euro e poi cosa fanno? Fanno vedere che vale 150, 200, perché? Perché rilanciano sempre loro stessi. Quello compra quello da 300 e dice, mamma mia, adesso sta salendo tantissimo. 300 e poi non salirà mai più e non c'è più mercato e quindi non scende perché non c'è, è come una casa, dici una casa la voglio vendere a un milione di dollari e nessuno la compra, però vale un milione di dollari? No, per ora vale zero. Quando la comprano il mercato mi dirà cosa vale e quindi la percezione è che valga un milione di dollari ma è solo tua, quindi vale zero anche se ancora c'è scritto che l'avete pagato. Chiarissimo, chiaro, chiarissimo. Poi ci sono le truffe su quello, cioè c'è un delirio intorno economico che è fuori di testa e in più ultimo ci sono i grandi big che si stanno buttando qui per due o tre ragioni. Primo, basta che dicano io i pomodori li faccio via NFT e l'indomani escono 46 articoli dei pomodori via NFT perché oggi si parla solo di quello. Io facevo la stessa battaglia ai tempi di Second Life. Sì, mi ricordo, c'è il Second Life come no? 15 anni fa dove praticamente Second Life si fa tutti. È sbarcata l'azienda delle crociere è sbarcata in Second Life. Prima pagina. È vero, è vero. Quindi è che lo stesso Facebook con la scusa di utilizzare un termine che non è suo metaverso si va a parlare, ha fatto smettere di parlare dei suoi problemi e si parla solo di quella roba lì. Quindi questo è il primo motivo. Secondo, perché i manager a volte delle aziende non è che è l'azienda ma la big company. Sì, ma il manager è una persona e a volte capita che i manager non è che siano dei geni, a volte i manager devono semplicemente dimostrare all'azienda di saper seguire il futuro, di saper cogliere queste cose, di riuscire a farne parlare e basta oggi dire NFT riesce a fare tutte e tre le cose insieme e quindi ecco perché a volte delle big company dicono da oggi il panino è via NFT, da oggi l'automobile registra chilometri via NFT perché il manager non gli frega niente poi oggi c'è un turnover molto veloce se tra dieci anni tutta sta roba si scoprirà che è una pirlata usata in quel modo e quindi lo fa ecco perché arrivano i big insomma un grande casino. Bisogna stare molto veramente molto attenti mi raccomando non buttiamoci nelle acque senza saper nuotare o senza salvagenti perché veramente qui siamo davanti a un qualcosa di molto innovativo e anche di interessante ma bisogna saperci lavorare ma c'è un altro problema sugli NFT poi quando se ho capito bene ci sono anche delle gas delle tasse da pagare che spesso sono anche 3, 4, 5 volte più costose di un NFT io posso prendere un dollaro e magari pagare una gas cioè una commissione a questi siti però quella non è una sorpresa quella non è una sorpresa perché prima di comprarlo ti dici oh guarda che costava un euro questo 200 di gas cioè ma è assurdo perché devo comprare un dollaro un euro e se mi viene a costare di gas 200 dollari per esempio perché a differenza di quello che vi raccontano io ho già sentito dei video di questi qui incapaci venditori che uno ha detto addirittura no perché ha spiegato cosa sono le gas ha fatto un video ha detto che quei soldi vanno a ethereum ah ethereum mal di testa vabbè vanno a ethereum uno dei venditori dovresti spiegare in poco tempo marco cos'è l'ethereum perché per me potrebbe essere un pianino è una delle blockchain ok ok dopo bitcoin l'ethereum ok dal punto di vista anche della della storia no e quindi praticamente quindi vanno a ethereum no non vanno a ethereum ethereum non è niente cioè sì c'è ovviamente l'organization ma non è non è che la proprietaria vanno ai singoli miners cioè alle singole persone che hanno dei costi ovviamente ci guadagnano ma hanno dei costi perché cosa fanno per validare quella transazione quell'acquisto devono per semplificare risolvere delle operazioni matematiche che sono quelle che poi alla base della che genera ok ok la sicurezza distribuita delle blockchain e per farlo loro intanto consumano energia queste macchine poi oggi che sono saliti i prezzi delle bollette in tutto il mondo quindi consumano energia prima di tutto e secondo e secondo appunto loro ci guadagnano perché lo fanno di lavoro e quindi a volte ce ne sono pochi in quel momento perché non conviene perché 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 quindi per fare sì che quella transazione venga come un'asta venga approvata venga validata e questo vuole più soldi ma è hai parlato e qui concludiamo perché l'argomento sarebbe veramente vasto magari poi ci ritroveremo da qualche parte magari qui in studio più nel dettaglio su alcuni argomenti tu hai parlato di macchine ci apri un po' questo modo cioè ci sono veramente dei calcolatori 24 su 24 che lavorano per generare tutta questa pieno Zeppo cercate su google mining mining farm lo dico gli tagliò ok è andata a cercare è certo però siccome consumano c'è una c'è una proporzione no tra quantità di energia consumata e soldi che fa per cui è evidente che se io apro una mining farm in Italia sono già fregato di base perché il mio omologo in Russia con la centrale nucleare attaccata non gli costano in Afghanistan non gli costa niente la 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 gli costa pochissimo l'energia necessaria a fare tutti questi e quindi di conseguenza di conseguenza siamo c'è chi è svantaggiato a volte si fa fatica a capire ma certi certe logiche internazionali economiche legate al bitcoin hanno dietro delle storie cioè El Salvador che adesso ha adottato bitcoin la valutia legale come avanti è un genio no 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 la loro principale la loro principale come si dice pil il pil che arriva da loro proviene prevalentemente la quantità di soldi che gira da come si chiama dalle cose illegali dalle polverine illegali da El Salvador cioè la maggior purtroppo purtroppo e quindi hanno siccome i soldi neri di quel mondo sporchi circolano attraverso prevalentemente bitcoin e simili bitcoin in realtà non li fanno circolare via bitcoin ne usano degli altri però diciamo che bitcoin prevalentemente è come dire il dollaro no della di quel mondo e quindi è ovvio che le adottano come valuta legale per forza perché è la loro è la loro legalità io ti volevo ringraziare perché ci hai dato questo altro punto di vista che è giusto darlo per mettere all'allerta tutti i giovani che magari sono anche all'ascolto per cercare di farvi capire che non è uno scherzo qui ci sono soldi in ballo ci sono c'è un mondo tutto che poi è anche giusto noi non siamo qui a dire che è giusto no non lo fate è giusto per la modo l'evoluzione l'hai detto è giusto che va avanti la tecnologia deve andare avanti però bisogna anche capire non buttarsi così a capofitto solo a pensare al guadagno perché a volte quando si pensa troppo al guadagno poi si perde veramente i soldi quanti sono quelli che parlano in modo entusiasta di questa roba qua n quanti sono quelli critici che spiegano in modo non sono contrari tolti quelli contrari all'innovazione ok vabbè ma di quelli che invece sono pro innovazione ma che sono critici con cognizione io conosco me spero ne arrivino tanti anni non è per fare l'unico no 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 ma è vero è vero quando mi dicono quando mi dicono eh basta e parlano in modo positivo io dico sì però ci sono già gli altri cioè fatemi fare almeno voglio dire del positivo vedi Marco tu non è che ne parli in modo negativo tu dici le cose come stanno perché conosci da 30 anni quel mondo quel mondo lì questo qui specifico delle crypto ha 10 anni da bitcoin appunto 12 anni 13 andiamo a vedere il white paper però diciamo che sì diciamo che dietro comunque è importante anche il resto ma poi sono tutte cose che come dire ho provato sin dal primo giorno ma non perché sia più bravo lo fanno tutti sono tanti per il tuo lavoro è chiaro che è bravo il mio lavoro cioè quando c'è chi mi dice ma tu hai mai fatto è ovvio che sì cioè c'è stato un venditore di questi qua che l'hanno preso in giro con un video perché aveva detto tipo eh quello lì della televisione eh era mai fatto lui un FT eh prima di parlare no sono andati a vedere l'ho fatto prima di lui il primo e lo so le persone sono veramente così guarda io Marco ti ringrazio ovviamente sei invitatissimo quando vuoi riparlare di queste cose con cognizione di causa visto che hai parlato di scimmietti noi mettiamo occidentali scarma e la scimmia che balla ok mi raccomando Marco studia 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 bisogna studiare ciao Marco grazie a presto